Un piacere ritrovare qui Carlo, metallipreziosi.it, bentrovato e buongiorno. Buongiorno a te Giacomo, grazie dell'invito, torno a trovarvi proprio in questa fine estate calda, calda che i mercati continuano a riscaldarla, hai ricordato tu poco fa ancora il petrolio, in questi giorni, in questo agosto che tendenzialmente lo abbiamo visto molto più volatile un po' in tutto il settore delle materie prime, la Cina che ci ha regalato grandi tensioni e poi purtroppo anche l'Afghanistan sotto controllo e tutto questo un agosto non proprio tranquillo e adesso vediamo i risultati sui mercati finanziari. Eh sì, petrolio ma non solo, insomma abbiamo visto anche il palladio che ha registrato movimenti interessanti, il platino che si è riportato sotto quota 1000 dollari l'oncia, adesso è proprio a ridosso di questa soglia psicologica ovviamente importantissima. Senti, partiamo dal petrolio allora, cerchiamo un po' di capire che cosa ha generato questa volatilità così forte che l'ha portato a rompere un spartiacque importante che era quello dei 66,5 circa, fino a quota 62 e soprattutto poi che lo ha condotto nuovamente al di sopra di quel livello e adesso insomma è tra i 67 e i 68 dollari al barile, quasi un otto volante sostanzialmente per il petrolio, sette sedute negative consecutive e con due sedute poi però praticamente è riuscito quasi a recuperare completamente quanto perso in quel lasso di tempo. Carlo? Sì, diciamo ecco quello che sta succedendo un po' sui mercati in generale è che tutti diciamo sostanzialmente i principali oro, argento, platino, palladio, gli energetici, il petrolio stanno tutti quanti o sopra o sotto la media mobile 200 periodi, quindi questa è la lettura chiave del mercato in questo momento, vi do questo input che poi sicuramente verrà ripreso da tanti altri miei colleghi come succede spesso e questa è la chiave di lettura per quanto riguarda i mercati finanziari. Media mobile 200 periodi che per quanto riguarda l'aspetto tecnico naturalmente cerca di focalizzare quelli che potrebbero essere gli scenari futuri. Dal punto di vista fondamentale sono tante diciamo le news per quanto riguarda i driver che sottostanno all'andamento degli energetici, petrolio in primis abbiamo sentito, siamo reduci da quello che è stato un po' la lotta all'interno dell'Opeca ai primi di agosto, adesso a primi di settembre ci sarà una nuova naturalmente incontro e si vedrà quello che potrebbero essere le stime sia sulla produzione ma soprattutto sulla domanda. Quello che il grande spauracchio, il grande timore che ha colpito il mercato del petrolio è la diffusione della variante delta purtroppo del Covid e questo ha impensierito gli investitori per quello che potrebbero essere il futuro dei consumi più che della produzione. Diciamo che la produzione sostanzialmente non c'è problema, non c'è difficoltà di approvvigionamento del petrolio nonostante la situazione, ci sia anche una situazione di backwardation nella stessa struttura tecnica del petrolio, però dall'altra parte tutto è concentrato su quello che è la domanda di petrolio, abbiamo visto che ormai la driving season americana è ormai anche importante in Europa, diciamo che tende a rientrare, quindi i consumi di benzina e di gasolio è leggermente inferiore. La cosa che preoccupa maggiormente gli investitori è il consumo per quanto riguarda il jet fuel, ovvero il trasporto aereo. Molte compagnie aeree hanno limitato o comunque non viaggiano a pieno carico e limitano gli spostamenti, nuove chiusure le hai anticipato tu prima, nei paesi orientali, quindi Nuova Zelanda e Australia mi pare che siano un po' nuovamente sotto pressione da questo punto di vista. Tutto questo per spiegare questa discesa del petrolio, dall'altra parte l'aspetto tecnico, l'avevamo ricordato anche in precedenza, il raggiungimento della zona dei 75-76 dollari per barile per quanto riguarda il crude oil era un obiettivo tecnico abbastanza importante, quindi ecco che c'è stata queste prese di beneficio. In ogni caso il mantenimento al di sopra dei, a parte l'ultimo minimo, intorno ai 62 dollari, però il mantenimento delle quotazioni sopra i 60 dollari e soprattutto sopra i 55 dollari, la zona dei 50-55 dollari permette al petrolio di rimanere in una tendenza di lungo periodo ancora costruttiva. E allora ve li mostro anche in grafico quello che ci ha appena riportato Carlo. Nel lungo periodo la situazione, come diceva il nostro analista, è ancora costruttiva nel senso che può ancora avere una parvenza di situazione rialzista e soprattutto ci parlava della media mobile 200, ecco come abbia appena accarezzato, scivolando fino ai 62 dollari al barile, il WTI, la media mobile 200 che quasi ha fatto da supporto, insomma da molla per quanto riguarda il WTI sul rialzo del 23 e del 24 agosto scorso e adesso appunto perde lo 0,36% ma sta consolidando i massimi della vigilia della seduta precedente. Brent invece è scivolato appena in questo momento appena sotto i 71 dollari al barile. Cambiando argomento, o meglio rimanendo sulle materie prime, ma concentrandoci invece sull'oro, l'abbiamo visto nuovamente in area 1800 dollari l'oncia, che è una soglia psicologica importante, 1794 è in questo momento il valore del gold che evidentemente capisce che i 1800 sono un'area importante e che quindi rimane sotto pressione, ma sostanzialmente adesso sta usando nel brevissimo periodo quello che aveva fatto da resistenza, cioè i 1795, se proprio andiamo a cercare un dato molto vicino ai 1800 che adesso fa quasi da, sostanzialmente da supporto, quindi siamo all'interno di una forbice molto molto ridotta, però il raggiungimento dei 1800 potrebbe essere interessante, insomma guardando anche a quello che accade a livello fondamentale sul gold. Carlo? Sì esattamente, adesso nel livello fondamentale praticamente, scusate perché non ho un problema col grafico, vediamo se riusciamo a risolverlo velocemente, eccolo qui, vediamo un pochino se ce la facciamo, perfetto. Per quanto riguarda il gold, dal punto di vista fondamentale tutto e ruota intorno a Jackson Hole, insomma un po', o meglio i mercati finanziari adesso ruoteranno intorno a quello che verrà detto a Jackson Hole. Jerome Powell ha indicato come la sua presenza sarà virtuale a causa dell'aumento dei contagi del coronavirus e quindi diciamo che tutti gli occhi sono puntati per vedere quali saranno le news, quali saranno le notizie relative a quello che potrebbe essere il tapering, insomma i movimenti di politica finanziaria, il tema centrale appunto sarà proprio quello di vedere quali le disparità tra le varie politiche monetarie e quindi cercare di inglobare un po', avere un filo conduttore comune. Questo ha impattato e potrebbe impattare sull'oro naturalmente perché chiaramente il tapering o altre forme di aiuto, naturalmente limitazioni o aumenti degli aiuti significano movimenti sui tassi di interesse, sul costo del denaro sostanzialmente. Il costo del denaro che è uno dei driver principali per quanto riguarda il prezzo dell'oro. Prezzo dell'oro che anch'esso è andato ad accarezzare come livello di resistenza la media mobile a 200 periodi, quindi 1812-1813 è il livello dove transita appunto la media mobile a 200 periodi e da di lì si vedrà un pochino che cosa potrebbe succedere soprattutto nello svolgersi dei prossimi giorni insomma. Quindi una settimana abbastanza importante, la cosa, il fattore fondamentale sarà che la settimana diciamo abbiamo due livelli da monitorare, la chiusura di settimana, uno è il valore di 1790 e l'altro appunto 1713 che sono i due livelli chiave. Al di sotto di 1790 il quadro potrebbe un pochino indebolirsi sull'oro, invece al di sopra dei 1813 potrebbe essere più favorevole per vedere un rialzo dell'oro. Naturalmente dal punto di vista fondamentale poi potremmo raccontare anche tutto ciò che sta succedendo in India, quindi India, Cina, i principali consumatori di oro al mondo e quindi questo naturalmente dovrebbe dal punto di vista fisico sicuramente impattare per quanto riguarda il prezzo dell'oro. Ed ecco qui graficamente anche in questo caso vi mostriamo insomma la media mobile a 200 che è quella disegnata in blu che appunto è stata raggiunta dal gold quando ha superato i 1.800 dollari l'oncia, ovviamente un ruolo come abbiamo già avuto modo di dire lo ha avuto anche il dollaro e il suo momento di debolezza soprattutto tra il 20 e il 24 agosto, quindi tra venerdì e ieri, intanto il dollar index è scivolato nuovamente sotto quota 93 punti, quindi il dollaro all'interno del proprio paniere principale. Carlo ti chiedo anche due parole per quanto concerne il rame che oggi va in controtendenza, guadagna lo 0,66%, 4,27 dollari per libra, aveva raggiunto anche in questo caso parliamo di una materia prima al di sopra e che comunque ha toccato la media mobile a 200, lo ha fatto il giorno 19 agosto quando è scivolato per la prima volta dopo mesi sotto quota 4, sicuramente soglia psicologica importante, adesso è un rimbalzo in corso che prosegue e che fondamentalmente ha visto il rame insomma disegnare anche graficamente due triangoli ribassisti che però non sono ancora stati rotti diciamo al ribasso con consistenza nel senso che è successo una prima volta a giugno, poi si è lateralizzato, insomma si è creata una sorta di lateralità tra giugno e luglio, stessa cosa è successa poi nel mese di 3 luglio e agosto, rottura fino ai minimi sotto i 4 ma ecco che c'è un nuovo tentativo di riposizionarsi in area 4,26, 4,27 adesso stando un po' larghi sopra comunque i 4,20 che potrebbe essere uno spartiacque sicuramente importante e allora ti chiedo un po' di fare il punto anche sul metallo rosso e metallo industriale, è prezioso ovviamente Carlo? Anche in questo caso le quotazioni sono scese a livello dei 400 dollari per libra e hanno toccato il livello di supporto fornito dalla media mobile 200 periodi, stanno rimbalzando, al momento non è ben chiaro la situazione per quanto riguarda il rame nel senso che questi movimenti del mercato non è che diano una direzionalità precisa, è vero che fin tanto che rimaniamo al di sopra dei 400 dollari, dell'area dei 400 dollari tendenzialmente la situazione nel lungo periodo rimane positiva, chiaramente noi vediamo anche il più breve periodo, ovvero anche il giornaliero, vediamo uno schiacciamento della volatilità, le candele che sono sempre con un corpo sempre più piccolo, quindi qualcosa bolle in pentola, dal punto di vista fondamentale l'aumento dei casi Covid nei principali paesi produttori, Cile, Perù sembrerebbero o meglio ancora diciamo che questo potrebbe limitare quelle che sono la produzione, anche se il mercato ha segnalato che comunque c'è un leggero surplus di produzione quest'anno, quindi tendenzialmente non ci sono problematiche proprio dal punto di vista dell'approvvigionamento. Il grosso problema è vedere sostanzialmente, il valore da monitorare in questo momento è 450 dollari, quindi fin tanto che rimane al di sotto non ci sono ancora chiari segnali di rialzo, dall'altra parte se dovesse scendere al di sotto dei 400, quindi 50 dollari di range, naturalmente le cose potrebbero cambiare e i venditori potrebbero insomma cercare in qualche modo di alleggerire le posizioni long naturalmente. Per quanto riguarda appunto il mercato dei futures, gli operatori cercano ancora posizioni, di mantenere le posizioni long. La Cina è quella che fa un po' la padrona in questo settore qui, perché è quella che in questo momento sta cercando in tutti i modi di dare delle indicazioni nello specifico per quanto riguarda appunto l'andamento, anche perché la Cina vuole calmerare i prezzi, l'aumento dei prezzi cercando di vendere quelle che sono le scorte nei propri magazzini. Eccola qui i 4,5 dollari per libro, 450 dollari la tonnellata del rame che segnalava appunto Carlo, è in questa posizione che può essere appunto un livello interessante da monitorare e da seguire. Al momento siamo a 4,27 per il rame, come detto più 0,64%. Prima di salutarci Carlo, noi abbiamo anche titolato insomma che tra i metalli industriali è stato impressionante il salto del palladio che ci ha in realtà anche abituato a grandi movimenti, insomma è un metallo industriale, mi correggerai se sbaglio, che in più occasioni ha mostrato di essere soggetto a grande volatilità. Qui vedo un 17 giugno un meno 10,9%, poi la risalita anche in un lasso di tempo abbastanza breve e poi ulteriori candele rosse piuttosto importanti a cui poi seguono anche candele verdi, davvero notevoli anche a livello di volumi e nel caso del fatto che appunto tra ieri e l'altro ieri si è andato a guadagnare quasi l'8%, diverso alla situazione del platino che invece al momento sta un po' bisticciando attorno ai 1000 dollari l'oncia. Ti chiedo appunto in maniera molto sintetica di raccontarci un po' quello che accade su questi due metalli nell'ordine che preferisci, insomma. Sì, partiamo dal Palladio, il Palladio ci aveva regalato l'area dei 3000 dollari, poi ancora lo scorso mese di maggio, poi è sceso, livello di supporto 2248, da di lì è rimbalzato come hai raccontato. Tutto ruota, il platino e Palladio ruotano intorno a una manciata di produttori, quindi un mercato estremamente volatile, soprattutto per quanto riguarda il Palladio. Le storie principali sono collegate al mercato dell'automobile, quindi una ripresa ad esempio in Cina del mercato delle vendite automobilistiche, però non è stato così tonico come ci si aspettava, quindi uno dei principali appunto fonte della domanda per quanto riguarda il platino e Palladio è proprio questa. La differenza consiste nel fatto che il platino con la legislazione contraria alla produzione e alla vendita di automobili a combustibile entro il 2030, la conclusione della vendita di automobili in Europa a combustibile e fossili, ha raffreddato le sue velletà rialziste, avevamo visto il platino un bel rialzo molto cospicuo. Al momento siamo a circa 800 dollari di spread tra il platino e l'oro, quindi questo è molto ampio. Ci potrebbe essere un rimbalzo, per entrambi i metalli, ormai potremmo titolare questa puntata la media mobile a 200 periodi, per entrambi questi metalli siamo sotto questi valori indicati dalla media mobile, quindi potrebbe essere che ci siano, al di là della situazione di ipervenduto, io vedo il platino ad esempio sembrerebbe voler essere in un doppio minimo, quindi voler riprendere, ma al di là di questo naturalmente sono molto collegati a quelle che sono le politiche ambientaliste e quelle che sono naturalmente le vendite di automobili. Eccolo il doppio minimo di cui parla Carlo, siamo in area 960 circa, è rimbalzato due volte su questo punto, diciamo con i 1030 che hanno fatto sostanzialmente da muro, contro cui è rimbalzato al ribasso una prima volta, adesso evidentemente potrebbe provare a attaccare nuovamente questa soglia. Il canale al momento è ribassista del platino da febbraio fino a oggi, ha provato a mettere sotto pressione il supporto dinamico in quattro occasioni, lo ha fatto a marzo, lo ha fatto a giugno e lo ha fatto poi ad agosto in un paio di occasioni, ha sempre tenuto, mentre una sola volta, anche se in una fascia di tempo più ampio, quello che va tra l'ultima settimana di aprile e i primi 20 giorni di maggio era riuscito anche a superarlo al rialzo, insomma questo canale ribassista, per poi tornare all'interno appunto di questa fascia che abbiamo identificato e vedremo se appunto complice la ripresa, che determina tra le altre cose immediatamente dei segnali importanti sul mercato dell'automobile, insomma permetterà appunto al platino di tornare a mostrare i muscoli come ha fatto il palladio e come abbiamo titolato in questi, per questo argomento e come ha fatto il palladio insomma in questi ultimi due giorni. Seguite Carlo Vallotto su metalli-preziosi.it e sul suo canale Telegram per tutti gli aggiornamenti. Carlo grazie per essere stato qui con noi, buon proseguimento e alla prossima. Grazie a voi, un saluto a te Giacomo, grazie a tutti, buon proseguimento.